Curva dei contagi in Sicilia è praticamente annullata, un solo positivo. In ulteriore aumento il numero dei guariti, stabili le terapie intensive, 7 ricoverati in tutta l'isola nei reparti di rianimazione. Purtroppo si registra un nuovo decesso che porta a 274 le morti da Covid-19 nell'isola. Questo è il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornata alle 15 di ieri, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato alla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 150.054, più 1.183 rispetto all'altro ieri. Su 128.717 persone, di queste sono risultate positive 3.443, più una. Mentre attualmente sono ancora contagiate 986, meno 13, 2.183 sono guarite, più 13 e 274 decedute, più una. Degli attuali 986 positivi, 72 pazienti, meno 2 sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 914, meno 11, sono in isolamento domiciliare.